Energy Solution, la controllata di SNAM attiva nell'efficienza energetica e ANARCI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominali e Immobiliari, hanno firmato un accordo di collaborazione volto alla promozione della riequalificazione energetica degli edifici residenziali in Italia. In base all'accordo, TEP contribuirà a formare gli amministratori di condominio sui servizi a disposizione per l'efficientamento dei consumi e il consolidamento antisismico degli edifici, ponendosi come interlocutore di riferimento per il settore immobiliare italiano. Sempre più italiani decidono di trascorrere le vacanze fuori dai confini nazionali, così come scelgono meno le località di mare a beneficio di città d'arte e viaggi itineranti. Questa è la fotografia scattata dal nuovo osservatorio mensile di FINDOMESTIC realizzato in collaborazione con DOXA, da cui emerge anche che per questa estate il 75% degli intervistati ha programmato una vacanza, mentre il 15% dovrà rinunciare soprattutto per problemi economici. L'80% di coloro che partiranno non si concederà più di due settimane di ferie, ma cresce la quota di italiani che trascorrerà un periodo di villeggiatura superiore a 15 giorni. Il mare, pur rimanendo la meta preferita, vede calare le preferenze dal 65% dello scorso anno al 59%. Parallelamente, chi sceglie un viaggio itinerante aumenta dal 10% del 2017 al 14% di quest'anno. Spostarsi in auto, in compagnia, risparmiando e rispettando l'ambiente. È questo l'obiettivo di Split, l'app di carpooling aziendale lanciata da Bosch e pensata per aziende, università o pubbliche amministrazioni. L'applicazione consente di organizzare in un'unica corsa il trasporto di più persone, ripartendo così i costi dello spostamento, ma soprattutto tutelando l'ambiente e riducendo le emissioni di CO2. Per usufruire del servizio basta scaricare gratuitamente l'app su Play Store oppure su App Store, registrarsi con il proprio indirizzo mail e inserire il codice fornito dall'azienda. Valorizzare la parità di trattamento e di opportunità tra i geni nel settore bancario e all'interno delle organizzazioni aziendali. È con questo obiettivo che l'ABI promuove il settore bancario e finanziario la carta Donne in Banca, valorizzare la diversità di genere. La carta è aperta all'adesione di tutte le imprese bancarie e finanziarie anche non associate all'ABI e impegna a valorizzare le proprie politiche aziendali secondo i seguenti principi per le pari opportunità. Promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e aperto ai valori della diversità. Rafforzare le modalità di selezione e sviluppo idonee a promuovere le pari opportunità di genere in un ambito aziendale orientato ad ogni livello alle pari opportunità di ruolo e parità di trattamento. Diffondere la piena ed effettiva partecipazione femminile ad ogni livello aziendale. Promuovere la parità di genere anche al di là della banca. A beneficio delle comunità di riferimento realizzare opportune iniziative per indirizzare e valorizzare le proprie politiche aziendali in materia di parità di genere. È stato firmato dal capo dipartimento della protezione civile Angelo Borelli e dal direttore Enel Italia Carlo Tamburi un protocollo d'intesa che rinnova la collaborazione per la gestione delle emergenze che coinvolgono il sistema elettrico. L'intesa aggiorna gli accordi già esistenti introducendo ulteriori elementi e aree di intervento per garantire massima efficienza ed efficacia operativa nella previsione, prevenzione e gestione dei rischi che possano avere impatto sul sistema elettrico, perseguendo finalità di tutela degli interessi fondamentali della collettività. Il protocollo della durata di 4 anni sarà applicato in particolare in 3 aree di collaborazione pianificazione, comunicazione tra le parti e verso l'esterno, formazione congiunta ed esercitazioni mirate con simulazioni di possibili scenari che richiedano azioni condivise.